Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la seconda parte di maggio 2023. Abbiamo la carta degli amanti, amici del Toro. Interessante, perché quando c'è la carta degli amanti si parla di amor proprio, si parla di amore in realtà a 360 gradi, quindi può essere sia l'amore verso se stessi, ma anche potrebbe essere l'amore verso qualcun altro, quindi magari l'inizio di una nuova relazione non necessariamente romantica, però sì che potrebbe essere anche romantica e comunque parla di una relazione che è in equilibrio, ok? Molte volte fa anche riferimento al dover effettuare una scelta, quindi andiamo a vedere adesso di che cosa si tratta di più nello specifico con i tarocchi. Io intanto come vi ricordo sempre sono letture generali fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non doveste risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere e sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, trovate il link al video della sezione degli abbonamenti, vi spiega di che cosa parlano tutti i video riservati agli abbonati e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene ragazzi, partiamo con un cavaliere di bastoni, adesso andiamo a vedere, un 9 di spade, wow! Questo cavaliere di bastoni potrebbe tranquillamente essere una persona già presente nella vostra vita o se non fosse una persona potrebbe essere il vostro atteggiamento, ossia una fase della vostra vita dove siete in pieno avanzamento. Normalmente quando c'è il cavaliere di bastoni perché ci sono delle azioni, c'è un'intenzione, c'è un movimento, può anche fare riferimento a qualcuno che arriva, adesso poi lo vediamo meglio con i mini tarocchi. Andiamo poi avanti con questo 9 di spade e il 9 di spade devo dire che è una carta che denota un po' di tristezza, un po' di preoccupazione, un po' di ansia che normalmente è legata al passato, quindi è come se in realtà il motivo di quest'ansia non ci fosse più, però è un po' il vivere nel ricordo, può anche essere nel ricordo di questa persona, ragazzi. Abbiamo un 9 di denari, il 9 di denari è una carta che parla di amor proprio, esattamente come la carta degli amanti, è l'arcano minore della carta degli amanti e parla anche, sì, ho come la sensazione che vogliate imparare a essere più indipendenti, ad avere più amor proprio, o perlomeno è quello verso cui sarete focalizzati nella seconda parte di maggio. Abbiamo anche un 8 di denari, qui è come se vi mancasse un certo tipo di quotidianità, è come se vi mancasse una certa costanza nell'affrontare o una situazione o una relazione. C'è qualcosa che ha a che fare con il sacrificio qui, lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. Terminiamo poi con un 7 di denari, la carta del matto e la regina di denari e queste le vediamo direttamente con i mini tarocchi. Bene, andiamo a vedere questo cavaliere di bastoni, 7 di spade, cavaliere di pentacoli e 2 di coppe. Eh sì ragazzi, per molte persone fa riferimento a una questione di tipo romantico, può essere che questo cavaliere di bastoni sia una persona intorno a voi, un vostro partner o anche semplicemente una conoscenza, ok? Che diciamo ho un po' la sensazione che voglia dare l'impressione di andare con calma ma non è tanto il suo caso perché comunque l'energia principale è un cavaliere di bastoni è una carta che è un forte dinamismo. Attenzione alle proiezioni, ai sogni condivisi con questo 7 di spade e cercate di valutare le persone per quello che fanno, non per quello che dicono. Andiamo a vedere 9 di spade. Abbiamo un 10 di bastoni, un 9 di spade nuovamente e un 9 di coppe. Guardate, è interessante perché avete 9, 9, 9 e 9. Il 9 è il numero dell'iniziazione, letteralmente di un iniziato e c'è un mazzo che ho dove la carta del matto viene chiamato l'iniziata, perché è rappresentata una donna, comunque è interessante perché è il principio, è l'inizio, è quella cosa che dopo l'eremita c'è la ruota della fortuna, c'è un 10, c'è un compimento, c'è un cambio ciclo. E in effetti anche qui avete un 10 che è una carta di chiusura cicli. Ragazzi qui vi dovete lasciare indietro probabilmente o una promessa o un accordo o un'illusione mi verrebbe anche da dire con questo 7 di spade. E' come se ci fosse una sorta di attaccamento a un sogno o ad una relazione, o anche a un contratto, potrebbe essere, se fosse per esempio una questione lavorativa, il 2 di coppe può essere tranquillamente un compromesso tra aziende, che normalmente però è un compromesso verbale, un compromesso interno, diciamo senza valore fiscale. Andiamo a vedere il 9 di denari. Abbiamo un re di bastoni al contrario, un asso di spade e un 3 di pentacoli. Se fosse una questione lavorativa ho come la sensazione che vi abbiano promesso delle cose ma le cose non vadano così velocemente come ve le hanno promesse e voi avete proprio l'esigenza di fare le cose per contro vostro, di lasciarvi indietro certe dinamiche. Ho proprio la sensazione con questo 9 di pentacoli e il 3 di pentacoli al contrario, che vogliate o diventare autonomi o trovare una maggiore indipendenza a livello lavorativo o proprio solo a livello economico, come non voglio più appoggiarmi a nessuno. Non voglio più dover dipendere da nessuno. Voglio trovare la mia armonia, il mio amor proprio, quello che è il valore che io do a me stesso o a me stessa. Andiamo a vedere l'8 di denari. Imperatore. 6 di spade, 5 di spade e morte. Come la sensazione che questo tipo di situazione vi porti o vi abbia portato ad uno spirito di sacrificio così ampio, o meglio, questo spirito di sacrificio era per voi l'idea o l'illusione che così avreste costruito qualche cosa di solido. In realtà, o come la sensazione che qui ci si debba proprio allontanare da certe idee tipo questa, tipo che sacrificandosi le cose saranno più solide, si costruisce qualche cosa di più solido, e qui perché comunque il 5 di bastoni parla di lotte della mente, cioè scusate il 5 di spade parla di lotte della mente, e qui avete un 6 di spade che parla di allontanarsi da certi pensieri, e anche con la carta della morte c'è bisogno di tagliare con certi atteggiamenti, con certi modi di fare, con certi pensieri. Può anche essere che qualcuno si stia sacrificando troppo per l'azienda e che questa in realtà non dia i giusti riconoscimenti che per molte persone, come l'idea che vi abbiano promesso a un aumento di stipendio, però non si è ancora arrivato. Andiamo a vedere il 7 di denari. E' un po' come se vi dovesse staccare da questa illusione, da questa idea, da questa promessa. Avete nuovamente il cavaliere di bastoni. E' interessante perché qui avete un 7 di pentacoli che è una carta di attesa fondamentalmente, poi avete il cavaliere di bastoni che è una carta invece di forte propulsione in avanti. Avete il mondo che è una carta di compimento, una carta di risultato, e il 5 di bastoni in effetti ci dice che c'è della competizione, c'è qualche cosa per cui si discute. Allora, se fossero due energie, voi e quella di un'altra persona, di un capo, di un partner, quello che è, è come se fosse su due lunghezze d'onda diverse. Cioè, è come se voi andaste più veloce di quello che va dall'altra persona. Però comunque si arriva ad un risultato, ragazzi, c'è la carta del mondo, eh? Si arriva ad un compimento. Andiamo a vedere il matto. Il matto un'altra volta, bellissimo, adoro i tarocchi. 4 di coppe e regina di pentacoli al contrario. Allora, qui vi esortano ad avere fiducia, a buttarvi nella vita con fiducia, a fare il salto di fede. Anche una carta che parla di nuove avventure, di nuovi inizi. Quindi, il punto è che non ne siete ancora consapevoli, perché con questo 4 di coppe, è come se non vi rendeste conto che avete già chiuso il ciclo e che state già iniziando un altro ciclo. Interessante perché avete due volte la regina di denari. Quindi si va verso la prosperità, ragazzi, si va verso quello che è il riconoscimento. E anche se si trattava di un riconoscimento economico, cioè nel senso che vi hanno promesso delle cose che non sono ancora arrivate, arriverete comunque alla regina di denari, arriverete comunque alla prosperità, al riconoscimento. Ok, quindi portate pazienza, quello che vi dice un po' la carta del sette di pentacoli. Andiamo a vedere questa regina di... grazie. Otto di denari, al contrario, e dieci di coppa al contrario. Voglio ancora una carta. E sei di bastoni. Sì, come vi dicevo, c'è anche sei di bastoni appunto, che è una carta di successo, è una carta di riconoscimento. L'unica, diciamo, avvertenza che vi danno è, guardate, di non mettere in secondo piano voi stessi. Perché è come se foste tanto presi da tutto questo movimento, dalle situazioni familiari, dalle situazioni lavorative, dal cane, dal gatto, da tutto quello che è intorno a voi e non riusciste a darvi il giusto spazio. Ecco, nella seconda parte della lettura vedo che inizia una dinamica nuova, cioè inizierete a darvi più spazio. Diciamo, non mi piace dire lasciare in secondo piano, però è un po' come il... Ok, se io sono nutrita, nutrito nel giusto modo, riesco anche a dare tempo migliore, riesco a dare una miglior versione di me stessa agli altri, alla famiglia e al lavoro. E' anche un po' quello che dice questo nove di pentacoli qui e anche la carta degli amanti. E' come se avessi bisogno di ritrovare la forza da soli dentro voi stessi, ok? Senza stare troppo agganciati a quello che è il passato, a quello che sono le promesse che vi hanno fatto. Trovate la vostra stabilità amandovi e non sacrificandovi. E' come se qualcuno qui fosse convinto che attraverso il sacrificio si crea un'azienda, un potere personale più solido. Però non è sempre così. Anzi, vi faccio un esempio. Le relazioni sono molto più solide quando c'è uno scambio eco, piuttosto che quando c'è confusione sui ruoli, sul motivo della discussione, anche perché a certe volte con i cinque di spade si discute inutilmente. E' come se vi consigliassero di lasciare andare certe cose, di pensare più a voi stessi, a quello che appaga a voi. Tenete presente che la regina di denari è sempre una persona che provvede per gli altri. E' una persona che non fa mai mancare niente alle persone che sono intorno. E' la perfetta, come vi posso dire, ospite. Sapete che si chiama ospite anche la persona che accoglie, no? E' la madre perfetta, l'educatrice perfetta. Educatrice proprio è il modo giusto, perché è una persona che provvede agli altri in modo pratico. Però è anche vero che è una persona che, per far sì di soddisfare le aspettative degli altri, lascia sempre un po' indietro quello che è il lavoro di introspezione, di ascolto, di autoanalisi, è come se lasciasse sempre un po' indietro una parte di se stessa per far fronte a tutti gli impegni, tutte le aspettative degli altri. Ecco, in questo caso vi dicono, prendetevi più cura di voi stessi. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Ecco, infatti. Allora, abbiamo la carta numero 8, ragazzi. Qui vi parla proprio di questioni familiari, che sia la famiglia quella di origine, che sia il gruppo di lavoro, che sia la famiglia che vi siete creati voi, o anche semplicemente il gruppo di amici che voi considerate come famiglia, nel caso non abbiate proprio nessun parente che sia ancora qui con voi, vi parlano di questioni profonde, di questioni che vengono da lontano, mi viene anche quasi da dire. È una carta che comunque vi dice che avete il supporto divino, ok? Qui con la carta del matto ripetuto due volte sento che vi esortano ad avere più fiducia anche in voi stessi, non solo nell'universo e in quello che è il disegno divino, ma nell'amore in generale. Cercate di capire come voi amate voi stessi, se vi amate in modo condizionato o se siete in grado di amare voi stessi in modo incondizionato. Vi appoggiate sempre, qualsiasi siano le vostre scelte, siete consapevoli delle scelte che fate, le appoggiate sempre in distanza, anche quando sbagliate, vi perdonate, siete capaci di tirarvi su di morale da soli? Ecco queste cose, come vi riempite a livello animico da soli l'amor proprio. Cari amici del toro, spero che questa lettura sia stata di ispirazione, fatemelo sapere con un like, con un commento, con un'iscrizione, se volete, avete piacere, potete condividere il canale, scusate, il video per supportare il canale. Ogni tipo di supporto per me è molto importante, in effetti ringrazio tutte le persone che mi aiutano con il canale, attraverso appunto anche le donazioni, attraverso gli abbonamenti. Vi ringrazio comunque di essere stati qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!